Sabato primo luglio torna a Terricciola la notte bianca del vino. Ormai sono tanti anni. La prima edizione risale al 2008 e ogni anno ci ripresentiamo agli avventori che vorranno venire a Terricciola con un format che ormai è conosciuto e che ogni anno si rinnova ma sempre nella tradizione. Anche per quest'anno si aspettano oltre 30 aziende provenienti da tutta la provincia così come ogni anno come ogni volta abbiamo presentato. Ci saranno le piazze vestite a festa con le degustazioni mirate ad esempio le bollicine. Poi ci saranno i nostri commercianti, ci saranno le nostre associazioni che faranno street food e quindi sarà possibile anche degustare abbinando i cibi del nostro territorio. Una serata per far conoscere le nostre bellezze, una serata che è possibile grazie ai tanti sponsor che in qualche modo ci aiutano a sostenere le spese. La Camera di Commercio, Magazzini Bangini, la Conad, Toscana Energia. Quindi ogni anno c'è un impegno da parte del Comune insieme a questi partner per riuscire a fare sempre un bellissimo evento. Una piccola nota logistica anche per quest'anno abbiamo riconfermato il bus navetta dalla Rosa di Terricciola quindi sarà possibile raggiungere Terricciola comodamente prendendo i bus navetta e risparmiando il tempo del parcheggio che è comunque sempre difficoltoso. Noi ci auguriamo di vedere tanta gente per le nostre strade, questo è il primo appuntamento, poi ci sarà il consueto Calici di Stelle che sarà il 5 di agosto. Noi vi aspettiamo tutti a Terricciola.